La transizione energetica giusta è quella che sposta i consumi verso le fonti energetiche green, ovviamente nel rispetto dei tempi di maturazione delle tecnologie, e che mantiene al centro degli obiettivi la sostenibilità ambientale insieme a un approccio a tutto tondo dei principi dell'economia circolare come ad esempio il riciclo e il riutilizzo dei materiali. Per raggiungere l'obiettivo di decarbonizzazione efficace è quindi necessario un lavoro coordinato tra governi, imprese e cittadini. Solo in questo modo sarà possibile mettere a terra il vero potenziale degli impianti normativi e abilitare gli investimenti da parte degli utenti finali, che ovviamente rappresentano il vero motore del passaggio a questa nuova forma di consapevolezza in termini di consumo. A2A, con un piano industriale che ha anticipato gli impegni di COP26, ha definito un nuovo paradigma che mette la sostenibilità ambientale al centro del percorso di crescita del gruppo. 16 miliardi di investimenti in arcopiano, di cui il 90% sono legati ad almeno uno degli SDGs, e rappresentano un modello di sviluppo che sancisce il passaggio verso la costituzione di una vera life company, attenta ai bisogni dei cittadini e delle imprese in termini di energia, di acqua e di ambiente.